no perché perché avevo detto che a parte che c'era prime che non li faceva rinnovare l'altra volta occhio che hanno spostato il tasto per il rinnovo col prime adesso bisogna andare su abbonamenti c'è potenze abbonamento ma da vedere umbertone se cliccate su tipo potenza abbonamento viene fuori il tastino del prime hanno spostato il tasto fammi vedere scusa se vado da noi ce l'ho ancora ce l'ho la sals vabbè vai in un crale a caso no ci ho regalo abbonamento vai in un crale a caso ah no eleva il tuo abbonamento c'è scritto dov'è edizioni se tu clicchi lì ti compare in alto il tastino del prime abbonati stanno facendo in modo che tutti tolgano il prime eleva il tuo abbonamento non sono cliccabili perché non c'ho il prime lì quindi adesso no però compare quindi mi raccomando bisogna andare su eleva il tuo abbonamento e lì compare il prime va bene magari deve ancora uscire ma non lo so perché dice che è completo anche in italia solo che i volumi 4 non sono cliccabili sono tre hanno sbagliato sono confusi su anime click oggi dobbiamo esplorare un po di savano anche perché dice completato se doveva uscire il quarto non scrivevano completato quindi sono tre ok e gli altri due li recupero adesso piano piano magari con faccio prendere a moro perché mi scoccio avere la serie a metà poi una serie kamimura è sempre stato qua proprio l'ho sempre voluto leggere ma dicevo sempre sono edizioni fighissime ma tanto costose ok umbertone ok grazie ad alberto grazie ad alberto vabbè andiamo su enshrouded dai che sono per fare le missioncine devo pisciare ma questo è un altro discorso la tengo aveva tanto di trama che però c'è in realtà poca roba quindi puoi tranquillamente seguirci anche se sei indietro sul shroud si ma se ti spoiler quello che si crea ma forse l'ambiente si c'è nei survival più l'ambientazione dire mi spoiler un po strano chi è tanto c'è i volumi che non capisco enshrouded allora oggi cosa vogliamo fare quindi andiamo alla nuova zona si è qui poi si svolge i boss e l'ambientazione ciao gatto grazie mille del ride gatto grazie del cuorasson del cuorasson 9 1 1 sono marco come posso aiutarla non credo lavori al 9 1 1 gà chissà però è carne di volatile cruda mangiamo adesso ciao ciao belli stanno andando avanti su enshrouded non durerà ancora tantissimo settimana prossima penso anche perché poi tra 12 giorni c'è letti a furtino quindi fatti è stato licenziato se non lo voglio lo voglio modo il fronte io non vedo l'ora poi magari una merda però fatemi così cucinare le cose cazzo è bronco devo potenziare lo scettro di agamennone prendete l'acqua e poi tanto quale succede amici ma ho trovato una fasciatura nel corso dell'esplorazione eh però è blu esatto ed è pulita non possiamo pulirle tutte così abbiamo più non c'è un modo per pulirle anche noi così li curano di più sono a sega io ma scusa ma il bastone è quello che mi ha dato moro l'ultimo è più potente perché poi va potenziato eccetera ma i bonus non ci sono il world credo che ormai non c'è bonus ma non lo uso col cacchio che lo vedremo magari se ci sarà un quando ci sono davvero fatto quando essi ufficialmente potremmo farlo tanto ormai abbiamo vediamo che mai giochi che li facciamo appena iscrata in accesso anticipato e poi conoscono nella versione 1.0 spesso sono completamente diversi quindi non so neanche quanto più abbia senso fare in accesso anticipato foglie di qualcuno vuole una spada sì se non ti serve ma non è quanto fa la tua comunque ancora giocatissimo e io c'ho quella lascia che mi avevi dato che fa 32 di danno viola che fa 34 ti prendete se non viene aggiornato questa la do a liezzar ovvero la gente non finisce se la vuole se la vuole ma ce l'ho aspetta quanto fa? la mia fa 32 no io ho 38 allora questa la ha riciclo ma potenziare questo esatto e l'hanno abbandonato semplicemente perché chi giocava a palward l'ha finito cioè non c'è più altro e è finito lì quando verrà aggiunta roba comunque palward è uscito due mesi fa già ma è infuocata pure? no ma come il shrouded probabilmente adesso avrà un decimo di giocatori che aveva prima probabilmente purtroppo se non vengono aggiornati questi giochi vengono aggiornati ma poi quando uscirà l'aggiornamento torneranno a giocarlo tecnicamente sì esatto, sì su palward sia qui fatemi migliorare l'equipaggio a month palward comunque c'è anche sul game pass quindi molta gente è anche lì e noi non sappiamo i dati noi abbiamo solo i dati di stile sono pure le mie pacchette sono blusa dimmi più no ma a lui mi ha piaciuto ah dovete andare avanti con l'alchimia e poi la fa la cacciatrice e la benda pulita mi pare tu vai avanti con l'alchimia e te la fa la cacciatrice? effettivamente strana che strana cosa la cacciatrice che missione abbiamo nella cacciatrice? ah dobbiamo fare la ricerca di un'impostazione per l'acconciatura ah forse perché devi fare le nuove pelli per fare la... amici l'ambra non la uso giusto? boh ne abbiamo presa un po' ne è solo che ne devo usare due per farmi il cappello mi sembra uno spreco ho preso un botone ho presa sei ne abbiamo come è possibile? eh no non ho scavato hai messa nelle casse giuste? eh in realtà possiamo farla è la missione della cacciatrice meno che non l'abbiamo già usata tutta quindi in ogni caso la puoi usare possiamo farla la missione della cacciatrice è vicino a dove ci siamo fermati l'altra volta è proprio lì vicino faccio il cappellino è importante se farcisci la casa di suppelletti li puoi aumentare fino a 50 minuti il leader non me lo vuol far fare no è che secondo me il live diventa la palla però ma è bellissimo fare il villaggetto abbiamo visto la votazione l'altra volta erano i due terzi di andare in giro ma che vuol dire? che c'entra? è che il pubblico si compre le palle preferiscono che andiamo in giro però può rimanere uno palle ma se vado in giro e crepo anche Frank ha detto che è importantissimo il bonus riposato qua non abbiamo più pianto quindi è la stessa meccanica di MyTamathPorti oppure... sì effettivamente c'è anche MyTamathPorti il due non mi ricordo il due non mi ricordo fallo adesso fallo fatelo fatelo anche voi non posso fare solo io sto raccogliendo la carne intanto l'acqua ma io stare al villaggio cioè io non ho problema mi diverto a fare tutte e due quindi non mi frega niente fate quello che vi pare io mi diverto sia a esplorare che a fare le cose nel villaggio quindi proprio guarda non ho minimo problema oh mille oh mille questa la ripiantiamo ma che senso i suppelletti cosa vuol dire? le robe addobbare la casa in generale mettere mobili sì sì ma li posso mettere li posso mettere però aspetta deve essere nel basta che è nel cerchio del villaggio giusto? non devo farlo per forza sì sì addobbare in generale il villaggio tutte le case e tutto quanto andate voi che faccio io oggi dai io qua creo un po' di cose vediamo se cosa riesco a fare con i materiali che c'ho nella casa quindi deve essere proprio all'interno proprio casa solo casa nostra nell'interno delle mura quella lì eh ma allora va fatto in ogni appartamento proprio cioè quindi tipo panchine e robe anche in giro non vanno bene penso di sì comunque vanno bene anche quelle perché noi abbiamo tanti piccole case effettivamente il calore il riposato aumenta solo se entri in casa sto vedendo sì mi sa di sì effettivamente sono nell'orto c'ho il bonus riposato ma non non c'ho e a parte noi se stiamo dentro un pochino riposato a me sta salendo di un casino 16 minuti arriviamo adesso sì ma non stiamo mai in giro oltre 16 però no non ti aumenta il tempo sì aumentato il tempo riposato che non è male è difficile che stiamo in giro così tanto senza tornare indietro beh ostia metta il tempo e basta beh l'altra volta è stato fuori tutta la live sì non ha senso arrivare 50 minuti va bene sempre stiamo fuori tutta la live se no dobbiamo fare avanti indietro cioè torniamo magari per riparare però possiamo ritornare tanto il tempo sale veramente velocemente per fare un cazzo di addobby ci mettiamo veramente niente facciamoli posso farlo anche io voi andate non è un problema cioè mi metto a fare qualche panchina qualche mobile se li facciamo in freddo in di più facciamo più in freddo per esempio tavoli fare qualche tavolino sono anche i tavoli di legno lucidante no ci sono più che altro le robe anche di rame i piatti di rame robe del genere vado a fare le frecce vale sta cosa ragazzi fatemi fare la corda e la metto nelle casse che mi sono stufato di farmele al momento e non ce ne sono mai nelle casse ho piantato anche tutto nell'auto vado a craftare subito un sacco di corda va allora poi vado a prendere altra fibra vegetale ok vado a prendere altra fibra intanto vi metto la corda nelle casse ok con le frecce sono a posto per un angale ok vado a fare altra vado a fare altra fibra vegetale qua intorno eh no si vede nelle altre ah perché il calore ma io l'ho messo il terreno per coltivare perché serve un fuoco quindi va bene in qualunque casa ma se ci sia un fuoco sennò il calore non sale giustamente allora vediamo un po' fuochi posso fare il cammino più bello mattone cotto sbarre di bronzo ok oppure cammino in argilla mattone cotto i mattoni servono mattoni ne avevamo fatti un po' no mi pare no zero ne abbiamo cioè non so se sono dentro aspetta forse sono dentro qua si ce ne sono 50 qui le sbarre di bronzo invece liberi liberi senza limiti limiti come spiriti sviferini quanta cazzo i lassi di legno abbiamo fatto aspetta fammi vedere un po' di robe se no vado a mettere nelle casse cazzo la mia prossima abilità cioè il mio prossimo sblocco di punti dopo aver sconfitto un nemico con un colpo alla testa il tuo gruppo guadagna 5 punti esperienza bestia not bad cioè a gratis più che altri sì è una cosa in più devo fare i colpi alla testa ci arrivano le sbarre di rame per fare le robe qua ci sono le zone di terra fioria potete prenderle e creare le aiuole vabbè adesso quello vediamo le sbarre hanno di bronzo il bronzo non ce l'abbiamo il bronzo si trova così no bisognerà farlo il bronzo è una lega a rigordi logica ma faccio aspetta una cosa visto che ti vado a farmare i cose per fare il deltaplano più ah sì sì quello mi serve è nel manto c'è il manto però a nord mi pare se ne trovano un po' di più orco giuda ma questo mi è venuto a prendere quanti ne servivano 6 o 8 mi pare o 6 o 8 il davantino il bagno rame più stagno dice frank grazie frank lo stagno non l'abbiamo mai trovato non ci siamo mai messi a scavare nelle miniere effettivamente noi troviamo roba sotto no la trovi subito la roba agliante sacco del manto non abbiamo perché mi ricordo che frank diceva che bisogna scavare in alcune miniere per prendere sì però troverai quello che trovi cioè lo stagno comunque lo troverai anche prima da qualche parte ma se metto più letti mi dà di conseguenza anche più comodità come si è piccola mette la te la fa salire ok distruggiamo allora ho fatto il caminetto ho preso anche scarti metallici continuo a prendere fibre servono sempre legno duro non ne abbiamo legno duro dove cazzo si prende era un tipo di albero che c'era che abbiamo trovato sì non mi ricordo ragazzo non era quello nel manto sempre gli alberi nel manto mi serve un sacco di fibra anche vabbè sì un pochino devi scavare comunque giusto giusto un pelo per il giacimento oddio mio sta cazzo chi è che ci ha messo qui sta macina no è manto legno quello del manto giustamente mi prende tutta sta roba vale però la spada giustamente non è un'accetta e non mi taglia le cose di legno legno duro è nel bioma dopo dice frank quello della savana io l'avevo trovato il legno duro perché mi se l'aveva droppato qualcuno infatti c'avamo solo quattro pezzi sto prendendo anche resina fammi fare sta farmata va non lo voglio mettere appiccicato ma gli mancano le texture a sto cammino del merda vero ma il legno ce l'abbiamo va ripreso quello normale boh prendo un po' anche di quello si sa mai che magari ci sei è che siamo dopo il portone devi passare attraverso un portone che devi potenziare per forza la fiamma se no non puoi passare si siamo quel bioma lì dopo dopo una specie di miniera quando c'era un vulcano come spiriti siamo a destra della mappa un po' un po' di resina per me sempre però le cagatine ok l'ho già farmati 8 ma ne formo un colpo di più magari sarà ditemi se devo farmare materiali ditemi se sto in giro vado a farmare ma lì nel manto forse i bubozzi non sono del manto anche in giro per tutto il mondo io sto facendo la fibra e la resina adesso tanto le corde ho visto che bene o male servono per un po' tutto adesso ci abbiamo 18 minuti già è aumentato di 2 perché prima era 16 poi devo rimettere la legna piatti su estero e qui solo che i piatti di legno del merda fammi vedere queste cose qui mi sa d'alfabbro ho capito dove in che alberi prendere la resina ci ho preso la mano ci sono anche due set nuovi già 18 ah ma questi però non danno niente la selce ci serve per caso è per frecce ma ormai sono frecce vecchie quelle di selce ce n'è un po' qui ormai devo andare quelle di rame per forza non faccio più e rame qui mi sa che non lo trovo in questo punto ti prendo un po' di selce la mia povecchiawee adesso mi avanzano queste cose vado a andare a prendere la fibra per fare i letti migliori sto prendendo un sacco di fibra io prendo anche i buboni che ci servivano i liquidi del manto ce n'ho beccato uno qua ne prendo un po' non so che è carina la roba che puoi mettere questi addobbi qui anche sopra i i working table le robe così pregalo un boccale a tutti prego ho anche un piattilegno eh ti piace ti piace la nutella un po' un po' sparsi in giro c'è un po' di disordine purtroppo eh eh ma io ti ho fatto entrare dentro il mio disordine moro una piccola cringia sì sono messi stali ragazzi chi è stali? no 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 ok fatemi prendere allora fatemi vedere quanta fibra ho fatto 140 dai non è malaccio me recoglio quasi quasi oh devo andare a prendere la figa dov'è? te la porto io aspetta te la porto io che ce ne ho 140 ok bisogna andare nella foresta sopra in realtà prendere la fibra tra l'altro oggi sto provando a ristreammare con che cosa? non in NVENC ma con il processore e moro te la lasciano la cassa vediamo se sovraccarica vedi qua sembra non sovraccaricare adesso ah ricoglietti lasci nella cassa ma se io vado su nella foresta Marco eh non pesa 143 eh moro allora me ne fotto solo che non c'è non c'è la cassa della ah si eccola qua c'è 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 la metto via deposito il ciuccio deposito altre cose ho preso anche il miele altra roba manca il legno duro maledizia eh ma il legno duro Frank ha detto che è il prossimo biome eh provo a andarci un attimo giusto per prendere la legna foglie di salvia le do lì nella cassa della cacciatrice andate a dormire se potete vai tu Marco vado io sì oggi c'è gli azaronai sì 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 devo andare avanti con sì stormi ma semplicemente ho messo le altre robe di là perché volevo liberarmene non è che ma questa era fibra va bene ne serve anche quella è un idolo idolo tronchi di legno fammi vedere se siamo a posto sento gli uccellini pappare ok sì il passaggio dal tramonto la notte istantaneo sì abbastanza la fibra come la prendere sempre cucino la kain dobbiamo distruggere quell'albeoli è troppo poca la carne ma la argilla ma c'è un botto di carne la zilla sì sì prendila si è che non sto usando mai quella dei cinghiali e la sto lasciando a voi io sto usando quella dei lupi anzi quella dei cinghiali è anche meglio in realtà perché dà più tre no beh dipende tronchi di legno qua più tre costituzione e no che succede ma comunque sì ti faccio compagnia forse legno duro giù nel manto sì è meglio quella dei cinghiali ovviamente di carne di alberi vedo solo baobabbi cos'è che devi fare? legno duro? sì provo ad andare a vedere giù nel manto ma se io volessi aumentare la mia accetta no? che è ancora quella di carne sputo ho fatto malissimo non si può fare? eh sì io l'ho fatta vedi un po' se c'è ancora roba per farla ogni tanto qualche cosina la butto giù da questi alberi di merda polpa fungo merda standardo di guerra 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 pantaloni dall'illusionista eh ho preso il fungo merda dall'illusionista però non era sono funghi questi non sono c'è un pazzoide assurdo lì la sbarra di rame ci serve vero? non la utilizzo la barra di rame come serve per fare le sbarra? si serve per fare un po' di roba allora uso l'hard faccio l'altra la rudimentale mincula mincula teni qua ho preso un po' di argilla ho presi centinaio di pezzi possiamo dire toffere a inter sugoi poi me l'han tirata a proposito di inter c'erano fanta calcio c'erano fanta calcio già hanno perso tre consecutive persa una no persa tre ne ho perso perso l'ultimo ho perso il recupero e ho perso anche quella prima hai perso con me ma non è nessun tipo a parte che io ho vinto contro il te sono passato terzo ero secondo non so come è possibile si vede che il recupero l'ho pareggiato ero a 20 punti adesso sono a 15 in realtà sono ancora troppissimi ma anche 10 sarebbero tantissimi ancora per il punto in cui siamo sono tanti allora qua l'ho già prese le cose va bene cos'altro possiamo prendere di utile vabbè la fibra serve sempre però l'ho già portata un po' ho fatto a livello 15 però voglio non lo so vorrei 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 questo è rame se è rame me ne sto qua ve lo prendo tutto si c'è il piccone te l'ho dato il piccone 10 arrivo da te te lo prendo anch'io tanto sono qua a far niente no non so se era si minare di rame arriva a me il rame ne avevamo nella cassa ne ho usato io un casino per fare frecce no no prendilo comunque e me lo prendo veramente poco arrivo io arrivo io no no è che sono già finito il piccone praticamente e non ho mai avuto paura da alcuna domani esce l'album di rossvillain sono curioso che il quale l'elefante dei termos sono ultimo ultimissimo gli azzare ne ho trovato qua lo prendo qui qua dietro io il termo sta andando bene ah no è argilla serve l'argilla comunque prendila prendila eh ma prendi più rame a sto punto eh ma sono caduto qua perché pensavo fosse rame ormai adesso faccio il buco arrivo da te se ce n'è tanta di argilla eh ma io me ne vado via da qua tutto il piccolo l'ho rotto quindi non c'è non voglio arrivare perché non trovo il cazzo legno duro stasera alla fine cosa vogliamo fare? certo cosa vogliamo fare stasera? un attacco l'altro un fallugia si vogliamo riprovare un fallugia effettivamente perché l'hanno facciato veramente tante volte dai che poi c'è anche pechino così finiamo giusti più o meno con fallugia di solito e dai facciamo un fallugia e domani facciamo un altro tutto di elizir dove cazzo sono finito io scusami poi fallugia si più che altro tanto prima o poi dovranno aggiornarlo sempre di più ma adesso hanno aggiunto una mappa o da quello quale ma l'estrazione mi sta dando un botto di esperienza si ne dà tanta ma 200 di esperienza non me ne sono neanche accorto e sale continuamente non credo di averlo mai disinstallato ci devo guardare anch'io non penso ho disinstallato la fine io no quello ancora no perché ci sto credendo un pochettino io che possa tornarci la volta dove sei gli ezzar tu sei su oh zio oddio chi è questo schifoso no vettina per favore ma è livello 13 fortissimo riuscirò a uscire dalla nebbia qui si ma sei suicidato sei suicidato vabbè in realtà gli ezzar io non so come arrivare da te eh non so dove sei eh sono sulla montagna cioè mi devo buttar giù mi sa no non ha senso buttarmi giù vabbè continuo a prendere questa adesso mi ritipo da mi ritipo sopra e arrivo facciamo così forse da qua si fa un giro intorno dove abbiamo la cosa minatore pc gamer ma perché Gigo perché ma lascialo stare che sai c'hai i suoi momenti ma poi avete detto che fa cagare il giorno dopo l'avete giocato con Vector il giorno dopo avete detto che faceva cagare ma poi l'abbiamo fatto in live noi una volta effettivamente si moriva un po' troppo prendo un po' di fargoline di fargoline si giocano ancora tantissimo non dire cazzateci che adesso vediamo qua gli ezzar dovresti essere in questa zona qua c'è argilla io non si può uscire dal manto qua manca due minuti mi sa che scendi giù si lo so sto prendendo un po' di fibra vegetale qua che ce n'è un bo questo è rame scusami sto giocando solo letta e l'uso non sto prendendo più batter semmai minerale di rame anche questo qua è rame vedi vabbè se no è qua sotto si ce n'è poco qua adesso arrivo c'è un cinghiale che insegue una pianta mi sa che morirò perché non si può uscire è tutto manto qua e non si può uscire sto correndo da ore e non ho trovato un punto in cui non ci sia il manto io ho cascato di sotto e vengo dentro a questo punto vengo lì sì ma il mio piccone è meno della metà comunque eh lo so anche il mio infatti me ne vado ciuccia come ci saranno i fiori ma non posso fermarmi ciuccia come niente anzi aspetta stai lì un attimo che vado a riparare il mio così torno e intanto ti faccio eh ma che cazzo serve che tanto poi devo riscendere a prendere le robe scusate che fai i ripari e poi? e poi ti porto ad elettoplano nuovo ah ok l'altro lo cancello non serve più a niente eh sì più che altro che strano cioè una volta che sei qui sotto non puoi più salire come fai? cioè cosa cosa faccio io? comunque con l'argilla si farma molto di più e mancano 30 secondi ma l'iezar senti fai una cosa vedi se puoi fare grazie che si può fare un un piccone meglio vedi cosa serve ma sicuramente si può fare ci mettiamo veramente troppo così è quello di rame dovete fare che comunque mi sa che non è che cambia troppo la situa aspetta dalle perché così ci si mette veramente cioè per prendere uno di rame devo picchiare sei volte eh boh io son morto eh devo tornare qui riprendermi la roba e capire da dove parete che il legno comunque non è che ho trovato mai un cazzo piccone tu che piccone hai? eh quello quello di mentale sì eh no è solo quello di rame serve la sbarra di rame non abbiamo e non ce l'abbiamo ma adesso abbiamo un po' di rame però è vero abbiamo rame effettivamente aspetta torno anch'io prendo anche il rame qui che c'ho io devo fare le sbarre di rame quanto rame hai tu? io ne ho preso una ventina mi sa anche di più io ne ho beh l'ho lasciato giù credo tanto comunque devo depositarle cose non lo ma sì l'ho lasciato giù credo allora io ho preso 17 di rame e di argilla ne ho presa non c'è più l'argilla ah 34 34 di argilla ma come si fa troppo poco farmare di più come si fa il coso di rame aspetta vai dal favoritici tante non il piccone proprio le cose di rame la sbarra dalla dalla forgia dal crogiolo lì ma argilla in realtà ne abbiamo 50 50 e 35 non è malaccio sì che è parte del fatto che vorrei trovare il cazzo di sbarra di rame eccolo qua il cazzo di modo per tornare su perché e porta qua il rame Mark aspetta amici dobbiamo fare un'altra cassa e dividere meglio le risorse però se è quella grossa di cassa generali diranno dov'è quella grossa? dietro la porta te l'ha avuto qua? metti qua tutto qua dentro aspetta ti inti questo ma anche l'argilla no l'argilla non c'è niente l'argilla quella lì va cotta per fare i mattoni nel non mi ricordo se dal fabbro o dal falegname la cosa per l'argilla mi sa dal falegname il tessuto di lino come si fa? devi trovare il lino la pianta le piantine si e poi devi avere il devi avere come si chiama questo coso? il il fuso il fuso dalla caccia devi fare missione alla cacciatrice si devi fare missione alla cacciatrice finché fai il fuso e poi metti lì la pianta di lì non ti fa il tessuto casse le possiamo sistemare molto meglio secondo me allora fammi prendere tutta l'argilla intanto la il rame lo spostiamo calcare facciamo così i materiali i materiali quelli rame, argilla eccetera li metto nella cassa grossa e adesso vado qua già che son qui sucate le uova le metto nella cassa questa qui probabilmente poi sarà sopra anche questo punto qui che sto andando a fare che questa argilla la tolgo sbarra di rame non è una prova non è che si mi mandi la prova che ho scritto che hai giocato due giorni l'eteluso vuol dire che adesso stai giocando l'eteluso e non c'è scritto quando l'hai giocato ma poi perché stai giocando l'eteluso mi piaceva perché? questo non te lo so dio ma io poi magari se ti pigli bene è anche figo è che noi morivamo e basta non si capiva niente no lo so che bellino l'eteluso però piuttosto io mi ricordo soltanto noi che moriamo per carri armati lontanissimi poi per carri fighissimi carti di metallo ne abbiamo 35 ma questi sarà sopra al punto vaffanculo continuiamo a tirare dritto da qualche parte sperando di cicciare fuori boh in un ascensore non lo so ma perché non ha creato le sbarre di rame hai messo tutti gli ingredienti nella forna nella forza quanto minerali di rame avevi scusa c'ho 7 ne ho messo perché adesso ne è rimasto 6 ma ne servono 20 per fare la cosa quindi come è possibile no ne abbiamo altri 50 nella cassa se vuoi eh non si può che pare che non si può sbarre di rame ne abbiamo 7 comunque sì ma non basta aspetta ma siamo sicuri che si fa in quel modo lì magari non si fa in quel modo sì 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 fa così c'è una torre vado a sto punto a fare quella torre là cioè l'unica possibilità ma che cazzata è veramente una merda a sto posto ma perché non prende dalle casse non so perché non si può no non è che quella grande non prende ma strano è magica si vede che è magica e non prende no forse forse dove l'hai messo tu lì l'hai preso a mano no l'ho preso a mano forse dalle cose lì non si può ma è stranissimo ma si vede che è magica dalle mettere i materiali nel no sono sempre stati lì non le prende dalle casse ah forse è dalla fonderia no nella fonderia se le devi mettere a mano sono come le trascini scusa era quello il problema ecco sono arrivato fuori il problema è quello lì allora va beh sta facendo possiamo fare 20 bare sì il piccone lo possiamo fare per tutti facciamo almeno due picconi poi torniamo lì prendiamo altro rame un bel po' di rame continuiamo qua a lavorare sto riprendendo l'acqua dei pozi ho fatto la strada più lunga possibile per uscire dal manto sono arrivato a casa cioè non è che ho fatto la strada più lunga è che qua non puoi salirci qua cioè poi magari se andavo su trovavo eh per salire intanto che aspettiamo torniamo lì prendiamo il tavolo veramente grande tronchi di legno aspetta che ho fatto un paio di cose aspetta questo è i tronchi qual era il tip non mi ricordo più era quello a nord era guglia antica ma questa qui allora l'abbiamo fatta questa qui l'abbiamo già fatta è il spostamento rapido bosco festante e vedete era lì a sud sotto l'accampamento della falegna marina sa che non ci ho preso allora no no è quella quella è solo che prima usavo te come punti riferimento è lì a sud è sud ovest sotto il sacramento della fiamma l'accampamento della falegna marina dovrebbe essere sotto quella sotto il sacramento della fiamma a sud ovest il dove sei proprio lì attaccato dall'altra parte se il cielo ci interessa non ho trovato niente di interessante cioè il legno duro ho trovato una sega sei arrivato lassù adesso proviamo ad andare è che a nord però c'era la merdaccia vero? ok sono tornato esattamente ciao Nacchio ciao Nacchio è che tipo anche là vedi non si può salire da nè cioè a nord lassù è che non sembrano esserci robe per salire il fatto è come cazzo lì sotto se mi butto dopo anche gli alberi sotto ti va o babbla sopra babb si è veramente troppo lento sto piccone ma poi finisci la stamina subito di know il sud però voglio vedere un attimo se sopra trovo sto gazzone di legno durone perché noi l'altra volta mi sa quel poco che c'avevamo l'abbiamo solo droppato roibos cos'è? non è l'arbusto che ho trovato io? eh si è un arbusto e allora l'ho messo già nella cassa mi sa a meno che non ero morto e ho perso tutto ma non mi ricordo si hanno fatto bene ad andare subito agli anti e roba del genere così esplode molto più velocemente c'è il ramen ora che sto menando c'ho 9 di ram si fai conto che da un rame ogni 3 picconate praticamente ho finito la stamina e ho fatto 4 di rame con quello di rame con il piccolo di rame ah ok beh è molto meglio io devo farne tipo sì ma comunque non è meglio sembra un po' too much beh la metà del tempo ci metti eh comunque troppo ah perché adesso probabilmente puoi fare anche quelli cioè siamo ancora a rame a voglia eh beh appunto che fame di che del roibos io oggi credo di avere la pasta con i carciofi a pranzi io faccio pasta al pesto mi sa non fatto da me quindi non è buono uguale però ma fare il pesto che rottura di coglioni a me rilassa pure solo che costa tantissimo per le robe che voglio io perché se prendi i pistacchi comunque i pistacchi costano se prendi i pinoli costano il doppio dei pistacchi quindi i pinoli sono veramente la roba più costosa della storia eh ma perché devi stare lì dalle pigne staccarne una a uno sgusciarli eh ma non ho io leggevo i pistacchi nel pesto vabbè se fai il pesto di pistacchi sì non ci credo che non avete mai assaggiato il pesto di pistacchi vabbè non ci credo non è che non è che si mangia così il pesto di pistacchi non è l'originale e poi comunque ci sono i pinoli che comunque costano lo stesso io parlavo dei pinoli che sono da costano più del pistacchio io parlavo dei pinoli che sono da sgusciare io ci andavo a raccoglierli i pinoli da piccolo Franci cazzo stai scrivendo in piazza hai avuto un ictus in piazza tipo da nel paese di mia nonna c'erano gli abeti che cadevano il periodo che cadevano le pigne andavi lì dalle pigne a a cercare i pinoli e ti sporchia cacciavi tutte le mani di merda perché sono ti facevi tutte le mani nere con i pinoli noi avevamo noi ci cadevano nel giardino al mare quindi lo facevamo lì eh sì ne parlava mia mamma l'altro giorno no? che io io da piccolo andavo cioè loro mi lasciavano per carità è un paesino piccolissimo quello lì cosa ho fatto? me l'ho detto io quella cosa lì perché è della zona Montefelcino adesso penso che non lo conosca nessuno ma effettivamente ho scritto quello è tipo un paesello piccolissimo però mi lasciavano tipo andare in giro per i cazzi miei per il paese ma io ero piccolino ma perché anche i miei giù ma perché dieci anni neanche no però tipo oggi probabilmente non sarebbe cioè una cosa che non faresti neanche in un paesellino così quello di mio papà sono 600 abitanti in realtà non succede niente mai eh però scusate quando ero piccolo erano 800 ma cambiava poco alla fine se le stesse notizie che girano adesso giravano anche una volta probabilmente non ti facevano andare in giro neanche una volta no appunto dico perché le cose che succedono succedevano anche una volta semplicemente non le veniva a sapere quindi eri meno preoccupato del mondo tra virgolette perché non le sapevi che succedeva può essere sì ma può essere anche adesso non lo so se effettivamente cioè c'era molta meno un certo tipo di informazione diretta una volta quello sicuramente c'è più allarmismo e più tutto però non so se effettivamente qualche tipo di criminalità o roba del genere sia aumentata o abbassata ma secondo le statistiche della comunità si è abbassata semplicemente una volta non lo sapevi quello che succedeva a Milano una volta tipo a Roma molte notizie che succedevano a Milano adesso non le sentono le sapevi vabbè ma Roma Milano c'entra niente non si parla di città no ma tipo anche in un paese a caso non arrivavano le notizie in altri paesi adesso comunque sai tutto di tutti Bob questo qui è quello rompicoglioni Amarichi in realtà anche quando ero piccolo io me lo dicevano tanti parenti quella cosa lì ovviamente perché sentivano dire non perché gli era capitato effettivamente però lo sentivano dire quindi dicevano attento agli zingari che ti rapiscono per non parlare delle formi razziali che era ancora peggio ma quanta roba razziale senza senso io mi ricordo mio nonno che a volte ci diceva mio nonno vabbè oggi avrebbe avuto 90 anni quasi che mi diceva non andare al primo lido che la sera ci sono gli africani è gravissima questa cosa ci sono gli africani al primo lido combinano un casino in realtà non facevano niente poverini questi semplicemente facevano le brioche di notte si mettevano al loro tavolino e mangiavano i cornetti ma ci sono gli africani questi sono lì col mitra sono i loro cornetti stai attento che te li piantano in gola li spiaccicavano in faccia non succedeva nulla però c'era questa cosa che chissà cosa succedeva e quasi ti intimorivano cioè quando vedevi uno di coloro diceva questo qua è quello di cui narra mio nonno chissà quale diavoleria faranno per quello che esiste il razzismo comunque poi ovviamente un tempo era ancora più amplificato ho trovato alberi di diverso tipo comunque quindi il legno duro non esiste vabbè devo dire che però ne ho presi a meno che non si usa tipo lavorando cioè non si fa lavorando non credo però è una cosa che mi manca di giù è che effettivamente la sera sfornava cioè l'estate più che altro sfornavano sempre i cornetti ed era proprio un rito verso mezzanotte l'una andava a prendere i cornetti è che ti manca il fatto perché sei a Milano no no mi manca proprio che non per il tempo passato proprio che non posso farlo perché non sono lì no è una roba da paeselli da piccole città robe così perché a Milano effettivamente è una roba cioè quella vita quella vita lì non c'è sì però cioè pur essendoci forni cioè il forno semplicemente lavora la la mattina cioè di preparare lì c'era proprio la cosa di farlo la notte perché tu stavi in giro fino a tardi o comunque una mezzanotte i forni le robe lì lavorano di notte quindi c'è gli hanno solo che nelle città così grosse forse non c'è gente che va in giro di notte a prendersi il cornetto se sei un tanti ragazzi lo fai io no sicuramente magari andrà al lavoro presto pasti prendi il cornetto anche se gli stanno facendo in quel momento alle due di notte la gente la sera magari sabato magari la sabato sì tipo anche da me anche da me tipo noi si una vigli fa roba fino a tardi noi si faceva la tipo il venerdì sera così la la serata tipo alle tre di notte si andava al forno a due passi lì bussavi ti aprivano e ti davano tipo di prendere le pizzettine robe del genere e mi ricordo è proprio una cosa che si faceva ogni sera si stava in giro però poi verso mezzanotte e mezzoluna via andavi da Mario o da Kia da Iello esatto ma perché ma perché c'è quella confidenzialità tra virgolette tu di dove sei beh è tradizione tra i miei amici a luna di notte andare a prendere la granita nucleare tu di dove sei la granita nucleare scriveteci dove siete così magari perché comunque a Milano per esempio queste cose ci sono ma forse appunto sabato sera è che essendo una città una metropoli fatto il 15 è molto più dispersivetuto quindi non c'è quella conoscere il panettiere tutte quelle cose lì è un po' più difficile dipende eh no dipende sì non c'è il quartiere lo conosci sì ma non è come in un paese quello cioè non è che nel paese lo conoscono tutti il panettiere no aspetta il piccone come lo assistiamo delle città devi vedere più come dei paesi chiusi sì ma inevitabilmente comunque magari a Milano no perché sono comunque tutti vicini ma a Roma funziona di più inevitabilmente e a Roma già forse un pochino più tradizionale come cosa però tipo a Milano non ce la vedo troppo una volta a Milano era così da quello che sento da mio papà perché i quartieri erano più distanti adesso si sono uniti io racconti di mio padre che lui aveva le sue tappe fisse si faceva i suoi giretti ma anche a Milano appunto puoi avere il panettiere di fiducia il macellaio partire sotto casa è quello di fiducia ci sono comunque i mercati ci sono comunque queste robe qua però è più difficile come tradizione averle il papà che zona era di Milano aspetta mi scordo sempre lui ha vissuto a Milano ma anche Milano magari è un po' più rara però c'è era mi scordo sempre un panettiere sotto casa a Milano ce l'hai sempre quindi si esatto te lo reputi tuo amore tu ti ricordi mio papà che quartiere era cresciuto perché lui è stato giù ovviamente fino a 18 poi è andato via subito di casa quindi è cresciuto anche a Milano mio papà non mi ricordo il quartiere me lo dice sempre ma non mi ricordo mai mannaggia non era troppo lontano comunque dal da Niguarda mi pare però magari mi ricordo male guarda è zona nord no non è Baggio no non era Baggio già su quartieri abbastanza tosti è un po' come Baggio è praticamente forse anche peggio di Rozzano una volta era Quartogiaro che era quello visto un po' e vabbè ma Franci perché mio papà l'ha raccontato anche a Franci magari se lo ricorda Franci che quartiere era è questo no Fran ma è la foresta questa qui il legno duro di culo va a fa' un culo 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 diciamo che i nuovi quartogiaro sono Rozzano e Baggio probabilmente quelli un po' più ancora dove c'è un po' di risse un po' di vabbè Milano c'è da dire che è peggiorata tanto perché è aumentata tanto la gente che è arrivata e quindi di conseguenza per motivi anche solo matematici se c'è più gente c'è più nel forestone prendo anche un sacco di fibra anche corsico quello no corsico è più una cosa magari sei tu io non andate a letto poi appena potete non sono a letto cioè non sono grazie sono a casa prendo un po' di legna chi è oddio 25 fps durante il callo notturno ragazzi ma mi ha fatto chi è stato cala cala sole con i film mi ha ruttato nell'orecchio fortissimo qualcuno sono le mostre che si sentono ogni tanto ma era veramente come se ce l'avessi nell'orecchio ma l'ho sentito anche io però non così alto sei pazzo semplicemente ma ieri era un rumore di ferro quando era in realtà c'è Tiziano che raccontava mi è venuto in mente adesso ho visto la storia la raccontava l'altra volta che è andata a far la spesa a proposito dei pinoli e dice che li tengono in cassa perché la gente li rubava perché valgono un botto non vedo più niente ragazzi se non dormite io non posso lavorare non lo so perché Baggio e Rozzano beh Rozzano effettivamente sono tutti i quartieri del sud sì sud di Milano ai 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 contro il sud beh noi siamo io ci sono anche i franci io e franci siamo al sud di Milano quindi io siete dei criminali voi no ma qua è tranquillo qua dove siamo noi tranquillo per carità ci sono i tamarri delle giostre ma ce li avevo anche a Monza quindi non è quelli sono anche qui quelli sono ovunque io mi ricordo oddio si è trasformato in un sigliale le risse che ho visto anche solo in stazione a Monza me ne ricordo almeno 10 15 che ho visto io però poi che ne ho lette sul giornale dove sono finita anche peggio ma tutte ste missioni qua secondarie no ma infatti sono dappertutto ma quelle secondarie Trezzano è qua intorno perché non conosco ancora bene la zona quindi non lo so si tratta appunto di trovare forzi e robe del genere si vado a fare queste come stanno strambecchi no non è qua intorno vabbè che il sud di Milano è comunque grande qui c'è un saccaro della fiamma quasi quasi vado anche lì nel mio quartiere c'erano tantissimi ragazzi calabresi perché abito vicino alla sapienza beh è come se vai a Torino a Torino ho conosciuto tutti i calabresi sono tutti a Torino ma anche i miei parenti tutti a Torino andavano a lavorare mio zio è cresciuto a Torino perché lavorava a Torino ma è proprio credo sia una tappa fissa dei calabresi perché c'era tanto lavoro c'era tanto lavoro e quindi andavano tutti a la Fiat non tutti quelli del sud ma solo i calabresi però non lo so passaparola credo semplicemente forse sì io mi ricordo appunto mio zio mia mamma mio papà è stato a Torino oppure ha girato ovunque vabbè Milano è misto c'è un po' di tutto ma infatti poi vabbè c'è da dire che stavo pensando infatti in calabresi ti fa tantissimo la Juve ma in realtà a Torino ti fanno tutto il Torino quindi non c'entra quello eh davidone che poi tu ormai davi sei molto più del no cioè tu hai vissuto più qui che lì ormai sei arrivato che avevi 14-15 anni e i 32 cioè hai vissuto molto più qua ormai molto più no però hai vissuto più qua mi ha bontolato Panzino mi ha bontolato anche io c'ho fame anche i siciliani a Torino siciliani beh può essere comunque il sud in generale ci si che venga solo che per dirti se tu mi dici ai tempi tivo ai tempi era per la fiat adesso ormai credo credo sia solo perché ormai sono lì e quindi per generazioni l'ascia che mi si è rotto ha fatto rumore di piatti che si spaccano per terra quanto rame prendiamo ancora? io non so credo che siano veramente pochi di gente che torna al sud dopo cioè tipo gente che è venuta al nord qualcuno però sì 70-80 anni fa hanno fatto figli e nipoti ma credo che poi tutti loro stiano qua difficile ma è un po' come ne parlavo con mio padre l'avevo detto per le olimpiadi che ci sono un sacco di ragazzi neri atleti neri ma perché sono tutte le nuove generazioni magari i loro papà i loro nonni sono venuti in Italia e lo sono cresciuti magari che ne so tutti loro da sud è una delle poche ingenuamente pensi chissà che cognome strano a quest'atleta si chiama magari Mauro Luciani però è completamente nero perché sono tutte generazioni nuove come in Francia è pieno di ragazzi neri Francia è successo cent'anni fa e loro sono molto più mischiati di noi mischiati che era apparito questo discorso poi con mio padre mi diceva ma guarda hanno i nomi hanno i nomi come gli italiani eh sì sono italiani sono italiani i chiodi mi servono i chiodi orco giuda che paura perché non abbiamo ancora trovato il modo di farmare di scrap metal è lontano basta ciao se lo senti parlare mica le dici che è cinese ha pure l'accento se tu non l'hai mai visto se lo sai che è cinese se lo senti parlare non ha né accento cinese è italiano ha proprio l'accento se poi sai che è cinese lo senti che è cinese sì lo puoi capire però se lo senti così però lì per lì io sono un siciliano che è tornato al sud dopo un po' di anni a Milano come mai anonimo se posso chiedere sono un siciliano che è tornato al sud dopo un po' di anni a Milano ci sta che mi risponde anche così qualche offerto qualche possibilità di lavoro giù in Francia hanno aiutato anche le colonie sì sì beh chiaro poi c'è tutto un discorso storico che vabbè adesso sì c'ha l'accento veneto ciao io lo sento che c'ha l'accento un po' veneto ma molti stranieri prendono quasi più il dialetto che la lingua italiana appena parlano italiano parlano subito anche la cadenza dialettale del posto in cui sono amici io di rame ne ho preso tanto ne prendo ancora un po' ora che si consuma il piccone poi torno l'amico cinese che si chiama Giampaolo beh sì perché i cinesi poi tendono a prendere il nome italiano a parte che sulla cadenza non credo abbia scritto Giampaolo io avevo un compagno no però si fanno chiamare sempre con il nome italiano io mi ricordo un mio compagno albanese e lui si chiamava Salvador però lo chiamavano Salvatore perché lui ha chiesto di chiamare però anche lì poi dipende uno come gli pare alcuni lo mantengono perché magari non è difficile da ricordare o da dire si con la Giampa un accento marcatissimo si chiama Nicola ma non credo che si chiami Nicola come nome cinese no lui forse no ma lui è cresciuto a Pesaro quindi non lo so è cresciuto ma non so se è nato non lo so cioè può essere di no all'accento all'accento proprio di Pesaro se lo senti è proprio tanto cioè più di Moro Moro non è di Pesaro però vabbè lo sento tantissimo lo sento tantissimo l'accento su di lui si chiama Dong Li ma si fa chiamare Eva vabbè si ci sa e poi le traduzioni vabbè si saranno traduzioni più o meno secondo me si scegliono un nome si fanno chiamare così in Italia per facilitare come su full no vabbè non c'entra niente no era per citare cose vabbè nerd diversa situazione anche dover aiutare la famiglia usul 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 si si no beh è vero beh si perché io ho fatto questa battuta ci sta se hai trovato lavoro giù ha senso ha ritrovato lavoro giù beh poi per aiutare la famiglia è andato giù e poi hai trovato lavoro giù e quindi a posto beh si ci sta io cito sempre i miei due colleghi di mio padre due ragazzi del Ghana sono stati qua due anni e sono andati hanno lavorato con mio padre due anni e e sono tornati cioè loro hanno fatto due anni all'azienda dove lavorava mio padre se ne sono andati sono tornati in Ghana e sono tranquilli o in Ghana hanno guadagnato talmente tanto che lì sono a posto se non hanno avuto spese qua hanno tenuto soldi via là sono ricchi quindi si ci sta anche a far così però si sono impegnati tanto nell'azienda hanno dovuto imparare l'italiano da zero cioè comunque si sono spaccati il culo beh però hanno comunque il caldo bisogna ritornare qua e sanno già l'italiano e tutto sì sì quello sì da fan di Dune ma ormai sono anche io fan di Dune sto finendo anche il libro quando vengo a Milano per lavoro e mi fermo un po' con qualcuno vedo i milanesi che dopo un po' mi cominciano con la O daia ma tutto brava vabbè ma ormai come dicono tanti i milanesi a Milano non ci sono più ormai sono tutti via Umbertone milanese sì però i milanesi pure ma sai che c'è tipo anche Franci si sente un sacco l'accento però non sono così tanti quelli a cui si sente molto l'accento cioè per esempio a me i miei parenti quando vado giù mi dicono ma sente che sei della Brianza io non me ne accorgo minimamente però i miei lo sentono amore si sente un sacco che sei di Milano si sente un sacco quando parli soprattutto che sei concitata si sente un sacco che sei l'accento sì Franci un pochino si sente di più anche tua mamma non è immediato io Brianzolo non me ne accorgo se me lo dite voi io non me ne accorgo proprio io non parlo mai sono delle cadenza tipo cadenza dicendo cadenza con questa z è Brianzolo effettivamente però non me ne accorgo su determinate parole non si capisce ma che noi siamo della Brianza io a Mark non è che si capiscano molto io vi sfido dovete sentire la nonna di Franci quando parlo di Giano l'altra volta mi ha detto una frase che non ce l'ho fatta fingere ogni tanto fingo faccio finiti capire non ce l'ho fatta fingere e gli ho detto non ho capito niente gli ho detto proprio non ho capito nulla mi ha parlato era sardo era sardo non era possibile capire cosa aveva detto ma neanche tu avevi capito mi sa amore quella volta lì non ha capito niente neanche lei sai che qui tocca fare un piano un altro piano ben bene chat qua sopra che poi appunto il Lodigiano il Pavese il Brianzolo sono tutti simili ma si differiscono anche per un po' di cose quindi è sempre un casino ma io anche c'è anche il Brianzolo stretto io mi ricordo c'è il Lombardo ma in realtà poi ogni provincia ogni si chiaro io mi ricordo quando sentivo parlare il Brianzolo e noi prendiamo sempre per il culo i sardi che è un'altra lingua ragazzi io vi ripeto quando io l'avevo citato anche un'altra volta in live quando aveva detto la bestia bleu ho trovato un boss e intendeva il pullman cioè io come faccio a capire la bestia bleu bestia bleu è il blu cioè io quello non credo che si dica il Brianzolo anche perché non sempre gli altri usano blu però mi parlava stretto e poi ha aggiunto bestia bleu e io mezz'ora quando me l'ha detto non ha raccontato quello è un suo appoggio che lo dice così perché non è Brianzolo è proprio un modo di dire che probabilmente tra l'altro tra di loro sì è di quella persona lì perché non però anche altre parole che mi diceva non era tanto lontano da come capisco il sardo ovvero niente cioè non capivo veramente nulla però il sardo secondo me è più difficile da capire perché è proprio tanto diverso poi alcune cose no però per alcune cose è tanto diverso no perché è vero in Brianzo gli Atul sono effettivamente la maggior parte blu però ad esempio l'altro ieri hanno cambiato i colori adesso sono bianco e verdi adesso io mi ricordo quando ero piccolo erano tutti arancioni da me sì perché erano quelli di ATM da quando erano su più ATM però tu mi dici guarda che la bestia blu lì io mi giro e non capisco perché dico cos'è la bestia blu quello l'ha detto proprio lui ma lo dice solo lui e basta secondo me il più difficile italiano è il sardo comunque cioè sentendoli tutti poi vabbè sono quelli stretti se parlano siciliano io non capisco niente e io però siciliano e calabrese li capisco perché sono cresciuto alle mie orecchie il sardo è quello più difficile io zero proprio siciliano quelli del nord per romano li posso capire il romano si capisce veneto non si capisce niente dal napoletano già lì faccio moltissima fatica più si va giù e peggio è non riesco a capire sembra un po' clingo in alcune parole sì siciliano e calabrese diciamo che riesce a capire più o meno io per dirti io il veneto io il veneto io veneto non capisco a parte che non lo capisco ma non mi fa neanche impazzire troppo come cadena ma proprio come sonoro non tanto per amici ho preso un discreto una discreta quantità di rame direi che siamo a posto per un bel po' d'anghede c'è un boss qua ma le tavole di legno le abbiamo messe tutte lì che hanno occupato metà cassa eh adesso le ho messe lì poi vediamo perché io mettendo il rame abbiamo due spazi liberi adesso possiamo fare un'altra cassa eh in caso a me piace tantissimo il toscano mi piace tanto il romano il napoletano mi piace molto mi piace tanto anche il napoletano poi vabbè la versione tamarra di tutti i dialetti la odio proprio quella la odio di tutti i dialetti però per esempio il napoletano quello tranquillo anche il calabrese mi piace vabbè ci sono cresciuto però ok ma avevo appena preso l'acqua l'ho ripresa di nuovo è normale ah non lo so io teo grazie mille grazie teo grazie del livello 1 21 mesi grazie mille i dialetti più belli allora se devo fare una media di quelli che mi piacciono forse quelle al centro mi piacciono di più il centro Italia il nostro il nostro è proprio è proprio greve il nostro dialetto quello vostro è già un po' più strano magari però comunque non è brutto cioè non mi dispiace il bolognese mi piace molto anche a me anche a me piace molto il bolognese e il ligure non mi piace tanto non mi piace tanto quel poco che ho sentito non mi fa impazzire il ligure cioè il ligure io poi c'ho in testa anche coso mi viene in mente subito istintivamente coso Beppe Grillo però vabbè non è quello solamente sì ma anche Luca e Paolo cioè ce ne sono stati poi che ho sentito leggermente parlare il ligure non lo metto tra i miei preferiti il mio preferito in assoluto probabilmente il toscano toscano romano napoletano quello là eh ti guazzi quello è vero quello è vero magari ci sta che ricordandoti qualcuno in particolare ti fa simpatia sulle scale lì maledizione romagnolo sottovalutato ma in realtà è bellissimo romagnolo cioè io ne sento in realtà i romagnoli sono sempre quelli che stanno simpatici perché scherzano e fanno i pirla insomma quelli più dibattuti sono veneti napoletani i romani che sento sempre metà li ama metà li odia come dialetto maro è legata a bella sicilia quelli più controversi sono veneto napoletano e romano secondo me che sono quelli che sento sempre che metà li odia metà li ama abruzzese underrated perché non non c'è qualcosa che spiccano non spiccano magari per qualcosa di particolare a livello di cioè non lo spiccano perché non sono importanti non spiccano perché che ne so trovi sempre qualche cosa relativa a Napoli o alla Sicilia su quelle regioni che si sentono di più di sotto Roma eh Toscano mi piace proprio tanto poi dipende alcuni magari quelli troppo come dicevo quelli troppo buzzurri tramari non mi piacciono di nessuna regione così avrà senso regaz vediamo un po' no tipo non c'è bisogno anche perché immagino perché lì sopra perché non c'è il pavimento nel mezzo perché fastidio scusa questo piccone lo posso togliere via anche la Calabria c'ha delle zone che io nonostante sono cresciuto in mezzo a Calabresi non mi piacciono tipo Reggio il dialetto di Reggio non mi fa impazzire il dialetto tipo Cosenza Crotone sono già molto distanti da quelli che sento io quindi non non riesco a a vederli troppo familiari perché sono molto diversi in realtà da quelli dei miei ok sto finendo un po' di missioni qua con le secondarie cosa possiamo fare d'altro magari crafto qualche altro cosa per il giardinetto qui mi piacerebbe fare dei vialettini solo che poi devi starli a modellare il terreno ogni no c'è puoi fare la strada sempre dal dal coso dal dal prepuzio qui piccolino come si chiama non lo so ma non so cosa stai intendendo striscioni andiamo un attimo allora io ho fatto il secondo piano della casa ho cambiato completamente le mure tutto ma non so come fare qui per non far sì che fuori venga una merda a meno che adesso cambiando lì no è rimasto comunque quel pezzo che non è brutto però grazie segreta cisterna metto prima la parete no viene comunque perché aspetta se io faccio così allora dobbiamo chiudere io faccio così ma le nuove le torce le torce ha senso farsi torce migliori no tanto fanno solo danno in più ma io non meno con le torce ci sta vabbè ma tanto purtroppo i dialetti andranno a scomparire cioè non è che c'è vedendo come ad esempio Mark ci tiene mi stare avvicinando al sardo ma non è che cioè perché mi affascina molto la lingua sarda ma purtroppo andranno a scomparire cioè a prescindere i dialetti spariranno cioè a me il sardo poi vabbè non mi dispiace ormai riparlano più gli anziani questi va avanti più ce ne saranno meno e che su me è una lingua proprio affascinante il sardo perché la vedo come una cioè non riesco a vederlo come un dialetto a differenza degli altri tutte le volte che ho ascoltato qualcuno parlare sardo rimango a bocca aperta perché non carpisco mezza parola forse una parola ma mi capita raramente di non capirci niente e quindi dico cavolo cioè impararlo è proprio un'altra roba ma chiaramente chi ci cresce no è come crescere con il romagnolo il napoletano per chi si cresce ovviamente no siciliano io lo capisco perché essendo cresciuto con i calabresi avendo sangue calabrese mi ci rivedo in tante frasi non so cosa ho rotto beh boh domani voglio fare no sì domani voglio fare le stradine no beh andiamo anche avanti un pochino vabbè si possono andare anche avanti con le missioni sì a legame beh certo sì 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 chiaro quella poi è una cosa anche personale dipende dalla persona comunque il romano cioè io rimarrei qui a costruire per veramente per sempre il suo gioco veramente fa totalmente bene perché c'è la finestra volante è perché dovevo metterci la parete non qui non qui c'è fatto talmente bene intuitivo e ti permette di sistemare le cose in una maniera talmente semplice se sbagli cioè c'è il tasto undo in che cazzo di altro gioco c'è il tasto undo ok così sopra ci posso mettere le cose aspetta che devo mettere quanti minuti siamo arrivati 16 17 18 22 era prima quando ho guardato l'ultima volta ma devo metterci 21 devo metterci ancora le ultime robe meno male Danielina vabbè 21 22 già può andare bene ma guarda io prima sono stato fuori e mi è passato subito e quindi dov'è arriviamo sui 30 minuti ma se non ci ricordiamo per la finisce torniamo indietro tanto che poi appena muori la prima volta non me lo fai mettere qua sopra no per un peto mi serve un altro blocco di mura città di inchie e qua sopra ci rifarò il tetto boh mancano pochi due quattro sei missioni extra mi manca ora con me mi ricordo come ho fatto il tetto era così a me dispiace di non sapere quasi niente del Brianzolo però effettivamente sono cresciuto in mezzo a gente che nessuna di loro parlava adesso puoi magari provare a carpirlo dai dai parenti di Francia lì lo puoi carpirlo eh ma più che Brianzolo anche lì siamo più sul milanese o più sul Lodigiano lo cambia tantissimo cioè la base è quella se tu senti la nonna di Francia parla solo cioè quando perché poi quando si prende col racconto parla solo no si Francia è vero voi Brianzolo no ma non c'è sta grossa differenza tra Brianzolo e milanese la base è quella sto imparando di più sto imparando di più il milanese cioè Lodigiano milanese lo sto imparando di più ascoltando la nonna di Francia cioè ti capiscono se parli quello in Brianza non ti capiscono benissimo invece il nonno di Francia non parla nessun dialetto anche se io sento che ha l'accento di Bergamo comunque cioè sento che ha l'accento più bergamasco di milanese forse sono io magari che lo sento più Bergamo già si differenzia molto di più però lei dice di no per esempio si beh chiaro sono 30 km Bergamo Milano è come di 30-40 non so quant'è non lo so io adesso faccio fatica ancora ogni tanto qualche parola però bene o male quando mi fa i discorsi perché lei non ci pensa cioè gli parte proprio naturale comunque la capisco se non la capisco perché proprio dice come l'altra volta qualche parola che sembra proprio cinese quindi non sì allora forse l'accento effettivamente è di Milano però non so perché ci vedo ogni tanto qualche cadenza bergamasca magari sono io che sono pazzo sì il Bergamo vabbè perché poi il Bergamo viene sempre detto che è rozzo forse nel modo in cui lo dico perché è un dialetto molto rude nel modo però in realtà le parole di per sé non è che sono così tanto più rozze di quelle di Milano lì fa tutto il modo secondo me è tutto il modo come dicono le cose a Bergamo che è più di pancia forse se non lo so cosa ha detto vabbè a parte che era Veneto quello che ho sentito se hai cercato di fare un'imitazione dalla porta sembra Veneto però vabbè Giguo non stavo dicendo che Brescia fa schifo anche perché non insulterei poi cosa di pancia ma io Brescia è già diverso io quando sento Gianluca non è bergamasco lo senti che è Brescia è diverso a parte che Gianluca dice sempre che Brescia fa schifo cioè lui il primo lo dice però il Bresciano fa molto più il dialetto poi nel dettaglio non saprei dire non saprei però la cadenza di Gianluca è diversa da quella di Bergamo si sente tantissimo che uno di Brescia è uno di Bergamo proprio da alcune parole almeno io lo capisco ci diamo qui aspetta che metto sto ultimando di robe adesso mi raccomando rimanete pochi c'è Lieza si parto col prelai allora sono queste due panche fammele mettere giù no pota figuets a parte che figuets non esiste in nessun nessun discorso così siamo a livello 20 25 minuti di comfort domani ci metto giusto due robette in più magari qua sopra però va va che bella casa che sta venendo fuori va che roba che bel eco-mostro sopra devo mettere le finestre magari quella la spostiamo sopra cosa mettiamo altre casse anzi fammelo fare che ci metto un secondo io metterei le casse più specifiche abbiamo troppa merda non si capisce niente sopra c'è letti ci sono puoi mettere comunque le casse tra a modi con modi oppure sopra che cazzo ci va sopra poi a mettere le robe no lasciali giù tanto c'è spazio allora dividiamole meglio però giù un po' un po' strabicare comunque non è male dai farei una finestra anche qui c'è il cammino lì quindi qua ma perché ho di bergamo gibo così tanto tu? perché c'è la diatriba bergamo breccia ma no la stavi diventando non ha mai cagato a bergamo poi bergamo è bella cioè adesso oggettivamente è bella bergamo secondo me è una bellissima città dai è bella c'è un sacco di no mi ucciso se lasci con le finestre spostate e vabbè ma se ti devi uccidere a fare così poco forse allora non ci vivrei mai non lo isforzo allora è bene così ci avrei vissuto volendo a bergamo era una delle papabili città se fosse andato in città via a me non dispiace a me non dispiace per niente bergamo cioè se tu mi dici vivi a milano o bergamo preferisco bergamo tra le due probabilmente anche io preferirei bergamo probabilmente poi non ci ho vissuto io dico esteticamente però mi sembra una città dove mi troverei molto meglio poi magari ci vado ad abitare tutta una merda non lo so vado a mangiare il coso rimanete qua che c'è Simone è